Un saluto e bentrovati alla voce delle istituzioni, ospite in studio quest'oggi Tatiana Paesbecker, sindaco di Auronzo di Cadore, grazie per essere qui. Grazie a voi, buonasera a tutti. Allora, iniziamo parlando di coronavirus, il Cadore è stata una delle zone più colpite in questi ultimi mesi, come sta andando adesso, come è andata la situazione negli ultimi periodi? La situazione di Auronzo fortunatamente adesso è molto meglio rispetto alla seconda ondata di ottobre quando abbiamo avuto un picco di 250 persone positive, insomma contemporaneamente un picco molto alto, eravamo molto molto preoccupati, c'è stato anche il contagio dell'intera residenza per anziani, quindi tutti gli ospiti positivi e devo dire che la situazione è stata gestita in modo davvero ottimo e vorrei complimentarmi soprattutto con gli operatori sanitari, gli infermieri ma anche i medici di base e tutti coloro che hanno lavorato sia all'interno della casa di riposo ma anche nell'assistenza agli stessi cittadini che in isolamento appunto oppositivi hanno trovato davvero molti volontari che sono stati vicini dall'amministrazione comunale, i dipendenti comunali ma anche la protezione civile e stessi cittadini che volontariamente appunto si sono recati ad esempio a consegnare la spesa a domicilio alle persone in difficoltà e la stessa giunta ha deciso di essere vicina ai cittadini con una telefonata io personalmente ho telefonato tutte le persone positive per capire se avessero necessità particolari e conoscere anche insomma le loro condizioni di salute fortunatamente questo è un bel aspetto che riguarda sostanzialmente i piccoli comuni dove questo si può fare sì questo infatti si può fare in un comune piccolo appunto un'ora della propria giornata e dedicarla ai cittadini non certo nelle grandi città e penso che sia anche insomma apprezzato dalla popolazione la questione vaccini come stiamo lavorando insieme all'ULS1 e i medici di base proprio per organizzare un weekend dedicato alla vaccinazione delle persone di età compresa tra i 70 e 79 anni presumibilmente sarà il weekend dopo Pasqua ma non abbiamo ancora la certezza però c'è la disponibilità di tutti i medici di base quindi andremo sicuramente velocemente avanti per quanto riguarda l'aspetto economico che è un po' l'altra faccia della medaglia di questa pandemia l'aspetto economico diciamo è abbastanza preoccupante soprattutto per la chiusura insomma degli impianti di risalita che hanno messo poi in crisi tutto l'indotto legato al turismo soprattutto invernale l'amministrazione comunale ha cercato di andare incontro alla cittadinanza mettendo a disposizione innanzitutto una tranche dei fondi dei comuni di confine quindi 500 mila euro che sono stati suddivisi in quattro diversi bandi che usciranno entro fine aprile con 200 mila euro a disposizione delle attività produttive per investimenti per fronteggiare il covid 50 mila euro a disposizione delle famiglie per investimenti invece per acquisti di pc o tablet 100 mila euro per la nostra residenza per anziani e 150 mila euro invece per un progetto di promozione turistica e oltre a questo dal bilancio comunale sono stati messi a disposizione 120 mila euro per tre bandi invece per un bonus per l'attività sportiva dei ragazzi bonus per l'acquisto dei libri e l'altro bonus invece per bonus alimentare come la vede parliamo di futuro l'estate l'estate scorsa ci sono state grandi folle alle tre cime insomma in tutti i luoghi un po' turistici quest'anno secondo lei l'estate la vedo come sicuramente ripetersi di questo affollamento di turisti che hanno voglia di montagna e si è visto nei weekend in cui eravamo zona gialla c'è stato proprio un assalto nuovamente alla montagna quindi sicuramente ci sarà una buona estate insomma condizioni sanitarie permettendo cambiamo argomento un altro argomento purtroppo non molto felice l'emergenza neve non ci vediamo in questi studi da novembre poi c'è stata una grossa nevicata in dicembre poi pioggi insomma sappiamo che il territorio è vulnerato da questo punto di vista ad Auronzo come si è dipanata questa emergenza neve? Sì abbiamo dovuto affrontare anche questa emergenza con delle precipitazioni nevose eccezionali che sono state poi ravvicinate nel tempo quindi c'è stato l'isolamento ad esempio della frazione di Misurina per alcuni giorni c'è sicuramente una conta dei danni che deve essere ancora definita perché sono numerosi anche i sentieri danneggiati di nuovo dalla caduta di alberi che sarà possibile poi quantificare solamente al disgelo insomma che ha appena iniziato e c'è stato un intervento del soccorso alpino dei vigili del fuoco su numerosi edifici sia comunali ma anche privati per la messa in sicurezza della copertura perché il manto nevoso era davvero eccezionale e per quanto riguarda le casse municipali c'è un esborso di circa 200 mila euro solo per lo sgombero neve quindi non è stato un inverno certo facile c'è anche la collaborazione dei cittadini in questo senso? banalmente il cittadino esce e spala? sì c'è assolutamente la collaborazione dei cittadini in tutte le situazioni di emergenza anche quella che abbiamo avuto lo scorso estate con il fango che ha invaso il paese i cittadini erano già le 4 o le 5 di mattina tutti in strada a spalare per questo insomma le ringrazio andiamo ancora un po' indietro ma parliamo comunque di dissesto idrogeologico VAIA si sta ancora lavorando per sistemare i disastri di quel tragico episodio? sì diciamo che i segni della tempesta VAIA sul territorio sono ancora evidenti ci sono diversi interventi che sono stati già finanziati dalla regione o da vari enti insomma che devono essere completati tra questi c'è la ciclabile Auronzo Misurina che aveva ottenuto un finanziamento di 400 mila euro che verrà completamente risistemata entro l'estate ci sono degli interventi su alcuni edifici comunali ad esempio il tetto del municipio che verrà sostituito con un finanziamento di 600 mila euro ottenuto dalla regione ci sono due interventi molto importanti che Veneto Stradi deve realizzare sulla SP 49 di Misurina quindi la strada che scende verso Carbonin un intervento da 3 milioni e mezzo nel punto in cui si era aperta la voragine se ricordate le immagini di quei giorni mi ricordo una strada dove c'era un buco enorme c'era un buco enorme questo infatti e poi un altro intervento da un milione e mezzo in prossimità del ponte Popena quindi questi oltre alla messa in sicurezza di tutti i vari affluenti del fiume Anziei dal Grava Secca a Giralba dove ci sono diversi lavori in corsi da ormai da anni dai servizi forestali e anche genio civile secondo lei questo territorio di cosa avrebbe bisogno per evitare questo tipo di situazioni? è una domanda da un milione di dollari, lo ammetto sicuramente l'attenzione che c'è in questi anni dopo vai, è un'attenzione eccezionale erano stati fatti già dei lavori prima che hanno permesso anche che i danni non fossero maggiori quindi questa attenzione e questi interventi di messa in sicurezza devono assolutamente continuare non devono fermarsi adesso con i tre anni post vaia e questo è fondamentale per mantenere poi la popolazione e poter vivere in modo tranquillo in montagna veniamo dunque ad alcune implementazioni che riguardano le tre cime ad esempio con il nuovo casello oppure insomma altri investimenti che state facendo sul versante del turismo sì, ci sono degli interventi importanti che verranno realizzati alcuni spero entro insomma all'inizio dell'estate sono finanziati con i fondi dei comuni di confine di area vasta il più importante è quello che permetterà un maggiore controllo dell'accesso delle auto elettricime di Lavaredo e anche spero un miglioramento della gestione della viabilità a misurina che ultimamente è sempre sovra affollata questo prevede la realizzazione di un nuovo casello quindi un nuovo edificio di accesso alle tre cime con due corsie di entrata e due corsie di uscita un nuovo sistema informatico che verrà controllato direttamente dal municipio e prevede anche l'installazione di pannelli informativi due a misurina e tre ad Auronzo che permetteranno ai cittadini di vedere già la situazione dei posti auto nei parcheggi di misurina delle nuove sbarre anche all'accesso dei vari parcheggi e poi una rotatoria che in prossimità della pista Loita permetterà un migliore controllo e anche la partenza della navetta che da misurina sale alle tre cime quindi questi sono interventi molto importanti e come amministrazione comunale siamo davvero consapevole di questa esigenza e di migliorare anche dal punto di vista ambientale insomma la situazione di misurina che poi prevede sempre con i fondi dei comuni di confine la realizzazione di due parcheggi semi interrati che dovrebbero eliminare tutte le auto attorno al lago sia a misurina che al lago intorno e la riqualificazione delle sponde del lago che dovrebbero essere completamente rinverdite Tra l'altro parlando di tre cime c'è anche un progetto in corso che si concretizzerà mi pare a settembre che riguarda le donne Sì c'è un progetto che è stato realizzato da varie associazioni che è il progetto Viva Vittoria che dovrebbe appunto avere come momento cru quello alle tre cime di Lavaredo il 4 settembre con l'esposizione di questa grande coperta realizzata da tante associazioni ma anche i singoli cittadini che stanno lavorando per sensibilizzare la cittadinanza sulla violenza delle donne Non è la prima volta tra l'altro che persone raggiungono le tre cime in segno così di pace? Ci sono stati due eventi che non dimenticheremo mai la catena umana del 2009 realizzata dal Comune di Auronzo insieme all'associazione Insieme Si Può le Dolomiti abbracciano l'Africa poi è stata ripetuta nel 2015 le Dolomiti abbracciano i diritti umani sempre in collaborazione con Insieme Si Può e poi anche l'associazione Amnesty International e Art for Amnesty quindi 6.000 persone unite in un abbraccio con una grande catena umana Passiamo a parlare della Piazza Santa Giustina che progetto c'è in corso? Allora per quanto riguarda la riqualificazione della Piazza Santa Giustina questo prevede un finanziamento sempre di 500.000 euro dei fondi dei Comuni di Confine che avevamo già previsto nel bilancio e nella tranche del 2019 è uscito ora il bando e ci sarà una riqualificazione della piazza che è la piazza centrale del paese che ha ospitato anche tanti eventi culturali ma anche premiazioni di eventi sportivi con la realizzazione di una nuova scalinata che scende verso la strada sottostante la realizzazione di un nuovo parcheggio che verrà risistemato e soprattutto la novità è il palco che potrà ospitare questi eventi che deve essere, visto insomma le prescrizioni che ci sono state date dalla sovrintendenza un palco a scomparsa quindi è stato definito con copertura a conchiglia ma naturalmente il bando è aperto vediamo i progetti che arriveranno Parliamo adesso di sport non è stato proprio un anno fortunato per lo sport, per lo spettacolo, per la musica eccetera però Auronzo è la città europea dello sport vi hanno soffiato come dire le gare di Dragon Boat però ci sono tante altre iniziative Sì, Auronzo, come ha detto lei è la città europea dello sport abbiamo tanti eventi che dovremo ancora insomma capire se possiamo o no realizzare perché l'emergenza sanitaria non so se ce lo permetterà però abbiamo messo in campo due finanziamenti importanti come amministrazione comunale per rinnovare innanzitutto i campi da tennis ci sono 100.000 euro di lavori che sono già stati affidati e dovrebbero partire a breve e poi per un rinnovo anche dell'illuminazione del campo da calcio Rodolfo Zande Giacomo che oltre all'illuminazione avrà anche un nuovo sistema di drenaggio quindi abbiamo messo a disposizione 150.000 euro e questo lo farà divenire a tutti gli effetti un campo in grado di ospitare partite di serie A e anche magari alcune partite appunto serali e ricordo è il campo che ospita insomma il ritiro della Lazio quindi due importanti interventi per offrire anche una maggiore attrattività anche dal punto di vista del turismo sportivo Infine abbiamo il tempo di fare un cenno sull'illuminazione pubblica ci sono dei progetti anche in questo senso? Sì, c'è un progetto che è proprio non rinnovo ma rifacimento in toto dell'illuminazione pubblica di una via che è la via Pospizza un progetto che la cittadinanza aspetta da moltissimi anni quindi l'abbiamo finanziato con 101.000 euro del bilancio comunale e dovrebbe partire entro l'autunno e questo va a continuare quei progetti di efficientamento energetico che abbiamo messo in campo negli ultimi due anni con un finanziamento arrivato dal governo di 50.000 euro che è stato implementato poi da altri 50.000 euro comunali e quindi il rinnovo di numerosi punti luce delle varie vie del paese sono importanti interventi soprattutto per garantire la sicurezza dei cittadini Le chiedo infine un ultimo messaggio il Cadore, la provincia è bella tutta adesso stiamo andando verso l'estate tra l'altro cos'è che dovrebbe far preferire Auronzo diciamo al turista rispetto ad altre zone? Volevo sentire un po' una sua riflessione patriottica La provincia, come ha detto lei, è bella tutta siamo tutti dolomiti patrimonio dell'umanità Unesco Auronzo certamente ha i tre laghi Santa Caterina, Misurina e Lago Antorno che soprattutto in estate la rendono secondo me unica per anche le stesse passeggiate ma la spiaggia che abbiamo realizzato sul lago sulle spiagge Buccintoro le passeggiate che ci sono le tre cime di Lavaredo che sono un'attrazione assolutamente unica e internazionale e anche secondo me l'accoglienza insomma della stessa cittadinanza che basta insomma vedere come i turisti della Lazio che provengono da Roma si sono affezionati al nostro territorio Con questo messaggio concludiamo qui io ringrazio il sindaco di Auronzo Tatiana Paisbecker grazie per la sua presenza grazie a voi per l'opportunità grazie a voi per averci seguito arrivederci grazie a voi